Il pensiero è una forza potentissima che guida gran parte delle nostre azioni, emozioni e risultati nella vita. Sebbene sia invisibile e intangibile, il potere del pensiero è innegabile, ed esso influenza in modo significativo la nostra realtà quotidiana. Quando il pensiero si unisce alle affermazioni positive, si crea un connubio straordinario in grado di plasmare la nostra vita in modi sorprendenti. In questo video, esploreremo a fondo il potere del pensiero e delle affermazioni positive, analizzando come possono trasformare la nostra mentalità, le nostre esperienze e il nostro benessere complessivo. Ma prima ti invito ad iscriverti al canale se sei interessato ad altri contenuti legati alla crescita personale e spirituale e ad approfondire il tema del nostro mondo interiore. Il pensiero è il punto di partenza di ogni azione, ogni scoperta e ogni realizzazione umana. La mente umana è un laboratorio in cui si generano idee, si elaborano emozioni e si costruiscono percorsi per il futuro. I pensieri non sono semplici sequenze casuali di parole nella mente, ma sono veicoli di energia e intenzione che possono influenzare profondamente la realtà che sperimentiamo. La psicologia moderna ha ampiamente dimostrato che il nostro stato mentale influisce sulla nostra percezione, sul nostro umore e sulle decisioni che prendiamo. Ad esempio, quando ci focalizziamo su pensieri negativi o su preoccupazioni costanti, la nostra mente tende a cercare prove che confermino queste prospettive, creando un ciclo che può alimentare l'ansia e lo stress. D'altro canto, quando nutriamo pensieri positivi e ottimisti, la nostra mente si apre a nuove possibilità e soluzioni, migliorando il nostro benessere generale. Le affermazioni positive sono strumenti potenti che consentono di indirizzare il potere del pensiero in direzioni specifiche. Queste affermazioni sono dichiarazioni brevi e incisive che esprimono intenzioni e convinzioni positive. L'uso regolare delle affermazioni positive può avere un impatto significativo sulla tua autostima, fiducia e atteggiamento verso la vita. Quando pronunci o ripeti affermazioni positive, stai istruendo la tua mente a concentrarsi su aspetti costruttivi e incoraggianti della realtà. Ad esempio, se ci dici ripetutamente, sono in grado di affrontare le sfide con coraggio e determinazione, la tua mente inizia a cercare e creare situazioni in cui potrai dimostrare questa capacità. Le affermazioni diventano una sorta di filtro attraverso il quale interpreti le situazioni e le informazioni che ti circondano. La scienza ha iniziato a esplorare in modo più approfondito il legame tra il pensiero e la realtà negli ultimi decenni. La neuroscienza, ad esempio, ha scoperto che i pensieri e le emozioni attivano diverse regioni del cervello, influenzando la chimica cerebrale e la connettività neuronale. Questo significa che i pensieri possono letteralmente modellare la struttura del cervello nel tempo, influenzando le nostre reazioni e comportamenti futuri. Le affermazioni positive, in particolare, sono state studiate per i loro effetti sul cervello e sul comportamento. Uno studio pubblicato nel 2010 ha dimostrato che le affermazioni positive possono aiutare le persone a superare le insicurezze e migliorare le loro performance in situazioni stressanti. Altri studi hanno suggerito che l'uso regolare di affermazioni positive può aumentare la fiducia in se stessi e ridurre l'ansia. Per sfruttare appieno il potere del pensiero e delle affermazioni positive, è importante adottare un approccio consapevole e costante. Ecco alcune strategie da considerare. 1. Consapevolezza dei pensieri. Inizia ad essere più consapevole dei tuoi pensieri. Osserva come reagisci a diverse situazioni e identifica i modelli di pensiero negativo. Questa consapevolezza è il primo passo per trasformare i pensieri limitanti in affermazioni positive. 2. Creazione di affermazioni. Crea affermazioni che riflettano ciò che desideri diventare o raggiungere. Assicurati che siano formulati in modo positivo. Presente e personale. Ad esempio, invece di dire «vorrei essere meno timido», potresti dire «sono sicuro e a mio agio nelle situazioni sociali». 3. Ripetizione e interiorizzazione. Ripeti le tue affermazioni regolarmente. Puoi farlo a voce alta, davanti allo specchio, oppure scriverle su un foglio di carta. Più spesso ripeti le affermazioni, più si radicheranno nella tua mente e influenzeranno il tuo pensiero quotidiano. 4. Visualizzazione creativa. Accompagna le tue affermazioni con la visualizzazione creativa. Immagina vivamente te stesso vivere la realtà descritta dalle affermazioni. Questo processo coinvolgente aiuta a consolidare la connessione tra il pensiero e la realtà desiderata. 5. Pazienza e persistenza. Ricorda che i cambiamenti non avvengono da un giorno all'altro. Sii paziente e persistente nell'applicare le affermazioni positive nella tua vita. Con il tempo, i risultati diventeranno evidenti. Il potere del pensiero e delle affermazioni positive è un fattore straordinario nella creazione della nostra realtà e del nostro benessere. Come dimostrano la scienza e l'esperienza personale, i pensieri positivi e le affermazioni possono influenzare in modo tangibile la nostra mentalità, le nostre emozioni e le nostre azioni. Coltivando una mente orientata al positivo e utilizzando affermazioni consapevoli, possiamo aprire la nostra mente agli obiettivi che desideriamo raggiungere, dandole la direzione migliore per noi. Ti ringrazio per aver guardato questo video e spero che le mie parole ti siano state di aiuto nel tuo percorso di crescita personale. Se sei interessato ad altri video ti invito ad iscriverti al canale. Ciao e alla prossima! Ciao! Ciao! Ciao!